Ora che noi stiamo preparando il modello per gli user di Apple, quindi usiamo i app per i iPhone e i iPad e anche usiamo un app per i Android-powered, per i tableti non per i Android-powered. E' un app per guardo, è downloadato via Google Play Store e è totalmente gratis. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.